Welcome to Reggio Calabria, il più antico liceo classico della città, diventa internazionale. La prestigiosa Università di Cambridge riconosce lo storico istituto reggino, lo status di affiliazione. Nell'ambito del programma English as a Second Language, gli alunni avranno la possibilità di ascoltare le lezioni di latino e matematica direttamente in lingua inglese. Un lettore madrelingua farà da spalla al docente ordinario per insegnare la lezione direttamente in lingua straniera, come se si frequentasse un'università o una scuola anglosassone. È una grande soddisfazione, ha affermato il dirigente scolastico Maria Rosaria Rao, perché prosegue il nostro percorso di internazionalizzazione degli studi. Oltre al riconoscimento da parte dell'Università di Cambridge, grazie al dialogo con il Consiglio d'Europa, la nostra scuola a settembre organizzerà un seminario internazionale di formazione, al quale prenderanno parte addetti culturali di decine di paesi del mondo. Far parte dell'Università di Cambridge, ha proseguito la dirigente scolastica, significa essere un centro di eccellenza nel campo dell'istruzione a livello internazionale e ne siamo davvero orgogliosi. Francesco Creazzo per la Cineus 24 L'Università di Cambridge L'Università di Cambridge L'Università di Cambridge Grazie.